Dunque, Serracchiani è deciso per fare l'ospedale a fianco del vecchio in via Monterreale, scelta che evidentemente lei non può condividere perché è il primo dei sostenitori del progetto del nuovo ospedale in Comina. Come reagisce a questa scelta? Registrando il fatto che non c'era il vicepresidente della regione e credo che si potesse aspettare per presentare questa idea, non è neppure un progetto che ci fosse pure Bolzonello, se è stato curioso di sentire il suo parere. Mi meraviglia che Pedrotti, che fino a tre mesi fa era d'accordo sulla Comina, oggi abbia cambiato idea e che nel sito del comune di Pordenone si possa ancora leggere un documento a favore della Comina. Mi meraviglia che la Serracchiani non si renda conto di essere stata votata da meno di un elettore su cinque in provincia di Pordenone e che quindi doveva ascoltare anche gli amministratori che invece sono stati eletti in questa provincia e ne rappresentano gli interessi. Sostanzialmente questo è il frutto di un compromesso all'interno del periodo democratico e quindi si antepongono gli interessi di partito a quelli generali. Pordenone non avrà un ospedale nuovo e tecnologicamente avanzato, avrà un ospedaletto incuniato in via Monteriale. Se tanti sono felici saranno contenti. Io non posso essere felice perché si pregiudica il diritto di Pordenone ad avere una sanità all'altezza delle aspettative di un territorio, al pari di Udine e al pari di Trieste. Non mi si venga a raccontare che bisognava risparmiare perché si possono risparmiare su tante cose ma non su un ospedale. Si buttano via cinque anni di lavoro, 300 mila euro di progetti per ricominciare da capo. Complimenti. Lei ha in mente qualche azione, manifestazione, iniziativa? Ma dobbiamo farlo, ma non solo per l'ospedale. Il consorzio universitario è stato dimenticato e fino a qualche mese fa sembrava la madre di tutte le battaglie. La fiera è in difficoltà e la regione dice che non è un problema suo, mentre prima doveva essere un problema di tondo, adesso non ha più un problema della regione, è un problema dei soci. La Banca d'Italia se n'è andata, il carcere lo fanno a San Vito. La provincia avanza 6 milioni di euro dalla regione sulle politiche attive del lavoro per contratti già chiusi di ricollocamento. La regione ha chiuso da mesi ogni incentivo per le assunzioni con i sindacati che non dicono nulla e Pordenone deve stare zitta. Qui non si tratta solamente del capoluogo che ha già in difficoltà, ma di un intero sistema territoriale. Si chiuderà la provincia per colpire ulteriormente il nostro territorio? Bene, noi dobbiamo ribellarci a questa situazione. Dobbiamo chiedere alla Serracchiani di non fare la ducetta e di nascondersi, ma di accettare il confronto con gli amministratori, con le categorie economiche, con i rappresentanti del mondo che Pordenone esprime. Invece questa arriva, decide, fa, anche se le cose sono sbagliate per Pordenone, poco importa. Non lo considero un atteggiamento né fruttuoso né virtuoso. Sarebbe invece importante ogni tanto abbandonare un certo atteggiamento supponente per sedersi intorno a tavola e vedere qual è davvero la soluzione migliore. Pensa che a me faccia piacere essere sempre col coltello tra i denti, mi dà fastidio, sono stanco, però purtroppo pare l'unico atteggiamento che a Trieste in questo momento sentono.